Grazie Presidente. Colleghi, Governo. Siamo ancora una volta riuniti in quest'Aula per commemorare la morte di un nostro militare in Afghanistan, il capitano dei bersaglieri Giuseppe Larose, ucciso nell'infida provincia occidentale di Farah, e riflettere sopra il significato di questa nostra missione e più in generale dell'impegno italiano in quel Paese. Non spetta alla Camera, non spetta alle assemblee parlamentari occuparsi di tattica e neppure di strategia, se non limitatamente agli aspetti che interagiscono con la politica. Non entraremo quindi in dettagli che riteniamo debbano essere lasciati agli approfondimenti degli esperti e degli Stati maggiori. Come sia possibile centrare la ralla di un Lynch con una bomba a mano, lo dovranno chiarire le persone che valutano le performance dei mezzi militari e la validità delle dottrine d'impiego che li concernono, non certamente a noi. Possiamo però, e dobbiamo, anzi occuparci di politica. Il problema è a nostro avviso sempre lo stesso. Cosa stiamo a fare in Afghanistan? Dal momento che non abbiamo in quel Paese alcun vitale interesse nazionale in discussione, eccezione fatta dal rapporto che ci lega con gli Stati Uniti d'America. Paese che tuttavia ha deciso di porre un termine alla missione ISAF entro il 31 dicembre del 2014. È necessario chiederselo perché le morti degli ultimi mesi ci paiono troppo inutili, a differenza di quelle subite fino a un paio di anni fa, che pure alimentavano importanti dubbi nella negalorda all'epoca ancora al governo. A differenza di allora non c'è infatti più un nostro progetto di riscatto per l'Afghanistan. Al contrario, abbiamo deciso di mollare il Paese al suo destino, restituendo l'Afghanistan a se stesso e alle sue forze di sicurezza con la graduale riduzione della presenza sul terreno delle truppe occidentali, senza curarci troppo di valutare cosa accade nelle zone che vengono abbandonate. Tutto infatti deve essere fatto rispettando una rigida tabella di marcia per poter dire a tutti che è finita senza che abbia preso corpo un disegno per il futuro afgano. Non siamo più nel 2001, quando anche noi convenimmo che reagire agli attacchi dell'11 settembre era doveroso e necessario. E sono purtroppo alle spalle anche anni relativamente tranquilli come quelli di metà decennio scorso, quando davvero si pensò di far bruciare a Kabul le tappe dello sviluppo. Dire oggi che ci si batte per la modernizzazione e democratizzazione dell'Afghanistan è nel migliore dei casi alimentare un'illusione, nel peggiore annunciare una menzogna. Stiamo gestendo un ripiegamento ordinato che ci permette di affermare che se non abbiamo vinto, almeno non abbiamo perso. L'attività dell'AISAF sul terreno è notevolmente diminuita e parallelamente sono calati i morti occidentali, ma lo scotto pagato dai militari e poliziotti afghani che sono subentrati ai nostri è altissimo, a riprova che il Paese non è stato affatto stabilizzato. Il processo per la riconciliazione nazionale procede in modo disordinato e, a quanto ne capiamo, avanza al di fuori di qualsiasi risultato precostituito. I Taliban hanno aperto un proprio ufficio politico in Qatar, Paese che lo stesso Hamid Karzai inizia a visitare sempre più spesso. Emissari del vecchio regime oscurantista di Kabul si sono recati a Teheran, mentre in precedenza altri di loro avevano partecipato a un convegno in Francia, allo scopo di discutere con altri elementi dell'opposizione a Karzai un nuovo assetto per l'Afghanistan. I disegni del Presidente degli Stati Uniti sono tuttora misteriosi, ma una cosa è chiarissima, l'Afghanistan non è più una priorità per la Casa Bianca. Anche se i piani sono ancora confusi perché alla loro determinazione manca proprio il sigillo americano, alla Ministeriale Nato della settimana scorsa è stato però lo stesso deciso di varare nel 2015 una nuova missione, la Resolute Support, che non prevede alcuna funzione di combattimento per i Paesi che vi prendono parte, ma che si annuncia comunque foriera di pericoli e di irta di difficoltà. Per l'Italia vi ha partecipato il Ministro della Difesa che senza alcuna consultazione con le Camere ha accettato che il nostro Paese continui a gestire l'intero ovest afgano nel quadro della nuova missione, che non completerà mansioni di combattimento, ma ci obbligherà in ogni caso a mantenere laggiù delle basi per un certo numero di anni, chissà quanti. Gli americani si sono presi l'est e il sud, mentre i tedeschi rimarranno al nord, per Kabul ed intorni una candidatura turca. Questa volta onorevoli colleghi siamo davanti persino agli inglesi che non hanno assunto alcuna responsabilità maggiore ed evidentemente ne hanno abbastanza. Concludo Presidente, ci conviene davvero far così? Cosa pensiamo di guadagnarci? La successione alla testa della Nato per un nostro candidato quando Erasmus mollerà? Occorre dirlo davanti al Paese. Cosa ci induce ad assumere responsabilità che annualmente persino Londra rifiuta? Dobbiamo chiarircelo prima che si debba nuovamente spiegare con parole stantie a qualche altra madre dolente perché ha perso un figlio. Grazie.